Sarà sentita in audizione protetta la presenza di uno psicologo, la ragazzina di 13 anni dell'Ovest Vicentino, mettiamo il comune a sua tutela e a tutelia delle indagini, fuggita di casa e che stando alla racconto avrebbe subito rapporti sessuali con un adulto che configura così una violenza sessuale nella città di Brescia. La vicenda è avvolta in un fitto riservo da parte delle forze dell'ordine e procura bresciana che sta coordinando le indagini per competenza in quanto le ricerche per l'identificazione della responsabile della violenza sono ancora in corso. Da quanto si è potuto ricostruire la 13enne, era fuggita di casa la scorsa settimana in treno, aveva raggiunto la stazione di Brescia, più avrebbe conosciuto dei giovani maggiorenni con i quali avrebbe fatto amicizia e l'avrebbero portata nell'abitazione dove uno di questi avrebbe avuto un rapporto sessuale con lei. Nel frattempo il padre, disperato dato che non riusciva a contattarla, si era rivolto ai carabinieri per denunciare la scomparsa della figlia così piccola ma irrequieta. Le ricerche si sono attivate immediatamente coinvolgendo le province limitrofe conducendo verso il Bresciano ed è stata la segnalazione della scomparsa a consentire l'individuazione dopo tre giorni di ricerche durante un controllo di routine della polizia di stato del Bresciano che una volta individuata ha consentito alla famiglia di riportarla a casa. Qui la ragazzina, studentessa delle medie, alla fine ha raccontato di aver avuto un rapporto secondo lei consenziente con un adulto, fatto che ha indotto i familiari a sporgere denunce ai carabinieri. Una visita ginecologica effettuata al sambotto l'avrebbe confermato la versione della 13enne. Tanti punti da chiarire, anzitutto il ruolo degli altri due adulti presenti nel luogo della violenza, se abbiano anche loro abusato della ragazzina oppure no. Inoltre bisognerà vedere se la 13enne, nell'audizione protetta disposta dal magistrato, confermerà la versione dei fatti.